Non si interrompe l'azione di controllo del comando provinciale di Teramo della Guardia di Finanza nei confronti di esercizi commerciali che vendono prodotti antisettici e disinfettanti a base di ipoclorito di sodio, largamente richiesti in questo periodo di emergenza sanitaria. I finanzieri hanno individuato di recente tre imprese che avrebbero messo in vendita in totale 4.504 confezioni di prodotti pari a 3.258 litri che pur riportando sulle etichette esplicative la dicitura antisettico e disinfettante e il pittogramma raffigurante una croce di colore rosso risultavano prive dell'autorizzazione del Ministero della Salute. Nello specifico a Bellante la compagnia di Giulianova ha sequestrato 240 flaconi di prodotto igienizzante da 800 millilitri recanti sull'etichetta la dicitura disinfettante quindi commercializzato come prodotto biocida in assenza della prescritta autorizzazione. A Pineto invece i militari della tenenza di Roseto hanno eseguito un accesso presso un impianto di produzione e stoccaggio di prodotti sanificanti risultati dopo una prima verifica privi dell'autorizzazione del Ministero della Sanità. Sono stati sequestrati quasi 2.500 litri di liquido antisettico disinfettante contenuto in 1.181 confezioni. A Sant'Egidio e la Vibrata i finanzieri della tenenza di Nereto dopo aver denunciato il responsabile di un'azienda che aveva prodotto e commercializzato senza le autorizzazioni del Ministero della Salute 23.530 confezioni di gel disinfettante vendute prevalentemente ad una società austriaca sono riusciti ad individuare e sequestrare altri 3.083 flaconi da 20 millilitri di gel emolliente disinfettante e 935 etichette descrittive del prodotto che erano stati distribuiti ad aziende della provincia. La normativa per il liquido igienizzante ricorda la Guardia di Finanza prevede che i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione siano classificabili come prodotti biocidi e possono essere posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione europea. Tutti i prodotti sono stati sequestrati e responsabili denunciati per frode in commercio.